E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mille like, mille canonici like per questo video, mi raccomando lasciateli, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiremo anche la partita di domani di Nation League, commentiamo la serie A e tutte le vicende del calcio nostrano, seguitemi sui social mi raccomando e condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete, guardate quelli già fatti, se ve li siete persi, Casovlaovic, Pontettine, Mercato e commentiamo signori questa semifinale di Nation League, Italia-Spagna. Allora, cominciamo da una cosa, aridatece bizzotto, aridatece, ma volete mettere la professionalità, oserei dire teutonica, di matrice cimbra, del buon bizzotto con cosa, con rimedi, io veramente purtroppo non riesco ad ascoltare, è troppo coinvolto, è troppo coinvolto signori, anche l'ultima cosa qui che ha detto è se è stato dato giallo a Bonucci, bisogna dare giallo anche a questo, è saltato col braccio così, quello della Spagna, a questionare sull'espulsione di Bonucci che purtroppo è netta, c'era un calcio d'angolo in favore della Spagna, era a questionare dicendo che la palla di Donnarumma era andata sul palo invece di aver colpito, troppo coinvolto, c'è la Spagna che segna, abbassa il tono di voce, non capisci neanche che cazzo sta succedendo in aria, non sai neanche che stanno segnando, troppo, aridatece bizzotto, aridatece, grande bizzotto, con la sua vena anche informativa che ti sciorina statistiche, viva bizzotto, viva bizzotto assolutamente, poi altra nota di cronaca, brutto questo colletto dell'Italia, era meglio quello rigido, quello bello elegante, questa maglia qui non è bella con questo colletto, e veniamo alla partita. Allora io parto da quest'oggi con un nostro di livello, ok, il buon Tancredi Palmeri di Sport Italia, che praticamente c'era la conduttrice in studio, la Ballarini mi pare si chiami, che gli fa tipo, sai se oggi giocherà a chiesa come falso nuova e conferme da questo punto di vista, non so se l'avete vista la scena perché meritava, e il nostrissimo Tancredi gli fa, no guarda io penso che l'Italia di Mancini giochi in modo totalmente diverso da quel catenaccio e contropiede della Juventus che si è visto con il Chelsea, no? E allora lei subito allarmata, no intervenire, no guarda che a me è piaciuta la Juve contro il Chelsea, e lui ha detto sì sì per carità, però era catenaccio e contropiede. Parto da questa nota di cronaca proprio per parlare di quella che è stata la scelta più sbagliata e che hai pagato quest'oggi, cioè quella del discorso del falso nuove, cioè tu hai giocato con Chiesa, Insigne e Bernardeschi, che nessuno dei tre è un centravanti, ma vi dico di più, la stessa idea di Chiesa centravanti è uno spreco, ne abbiamo parlato l'altro giorno in live che vi invito a rivedere, nasce da cosa? Nasce dai tifosi più superficiali che vedono Chiesa segnare, no? Diversi gol, perché? Perché è forte ma li segna sfruttando cosa? La sua progressione, la sua abilità spesso sulle fasce, la sua capacità di saltare l'uomo, però il tifoso più superficiale dice segna, allora mettiamolo centravanti. Sbagliato! Il vero viaggio di scoperta, paradossalmente, sarebbe di far giocare Chiesa come Teo Hernandez, come Bale, per dargli ancora più campo per sfruttare queste sue doti. L'avete visto anche oggi nel gol, ma lo vedete nel 95% dei gol di Chiesa. Ve lo dico io che Chiesa alla Fiorentina, l'ho visto, spesso è stato fatto giocare centravanti alla Fiorentina, non rendeva, non rendeva, era uno spreco, uno spreco. Ha giocato due partite con Iachini come esterno a tutta fascia, ha fatto un inizio di campionato straordinario, poi è andato alla Juve e note vicende. Comunque, detto questo, errore madornale quello di continuare. Ma scusa un attimo, è la nazionale che ha vinto l'europeo. C'hai già il problema tuo, anche quando stanno bene, di mobile e belotti che non sono prime punte adatte a sto schema. Ma approfittane, dai fiducia ad un giovane, prendi un cacchio di scamacca, che è un giovane, che è adatto a sto schema, che può fare la prima punta nel 4-3-3, lo convochi e fai giocare lui. Oppure, anche se non è adattissimo, ma visto che pare ti piaccia, raspadori. Ma scegli un pontè, un lucca, uso sto futurismo qui, convoca, l'ho visto che ha fatto un ottimo inizio in Serie B, convoca lui per futurismo. Poi, a gara in corsa, vai a mettere che anche manco lui è adatto a fare la prima punta nel 4-3-3. Quindi, questo è il principale errore. Un altro errore è stato quello di mettere la coppia difensiva Bonucci e Bastoni, perché sono profili troppo simili. In marcatura, lasciano tutti e due qualcosina. Oltretutto, Bastoni gioca con difesa a tre all'Inter. E oggi si è visto, si è perso l'uomo, perché lui non ha le caratteristiche da difensore che agisce da centrale o di difesa. Lui è abituato a fare il braccino nella difesa a tre. È uno che sale, è uno che esce. Oggi si è perso l'uomo. Ed è una coppia difensiva che non ci sta. Fai giocare Chiellini e Bonucci, oppure anche lì vai di futurismo e ci metti, non lo so, Romagnoli, Bastoni, due giovani, capito? Ma se gioca Bonucci, tanto vale che fai giocare Chiellini. Poi, al di là di questo, che sono errori tattici, errori di convocazione, errori di gestione, tanto bisogna fare i complimenti alla Spagna, perché, ma già si era visto l'europeo, onestamente. Gioco fantastico, non buttano via una palla. Un'orchestra di giovani veramente tecnici, concentrati, molto più famellici di noi oggi, molto più cattivi, molto più vogliosi di portare a casa il risultato, ma soprattutto un'industria veramente del pallone in campo che non ne butta via uno. Non ne butta via uno. Tacchi, bei tocchi, gioco consolidato. Si è vista una squadra che ha meritato, ma meritava già quando eravamo 11 contro 11. Al netto poi di una espulsione che purtroppo è netta. E oltre a questo, anche diversi giocatori che a livello personale hanno deluso. Misto tra stanchezza, poca determinazione, tornazione. Per esempio, a centrocampo non ne salvo uno oggi di quelli che hanno iniziato. Male, malissimo Verratti, male anche Barella, nervoso, inconcludente, assente, male Giorginio. In attacco, vi ripeto, salvo solo Chiesa, ma sono parzialmente assolti per quello che è successo. Male anche Di Lorenzo. Oggi c'è da salvare chi? Chi è che si può salvare? Si salva sicuramente Chiesa, che ha il merito al 95% sul gol fatto. Può salvare Pellegrini per aver concluso il gol. Non mi è spiaciuto come è entrato in campo Locatelli, che probabilmente a me neanche entusiasma. Ma neanche Verratti mi entusiasma. Sono due giocatori che non mi piacciono molto, Locatelli e Verratti. Però per quello che era il momento di forma di Locatelli, che ha anche segnato domenica, potevi far giocare lui oggi, no? E quindi questo dico. Vado con i voti. Allora, Donnarumma, voto. Ma al di là dei fischi, ha anche salvato la partita su quell'occasione lì, che era capitata, mi pare, non so se a Jeremy Pino, fortissimo ieri Mipino, o a Ferran Torres. Comunque a Donnarumma un 6 più glielo do. Di Lorenzo non mi è piaciuto per niente. 5 più. Bonucci. 5 più con quel più, dato solo perché ha salvato anche lui un gol, con un'uscita avventata lì, di Donnarumma. Però ha salvato un gol. Bastoni, voto. Poi si è ripreso, per carità, non è che ha fatto una cattiva partita. Però dal 5 al 6, perché la responsabilità sul gol è anche sua. Emerson, 5 e mezzo. Si perde anche lui nel caso del secondo gol l'uomo. Ha fatto anche una scelta sbagliata in ripartenza, quando non ha dato la palla a destra, non è che mi abbia entusiasmato moltissimo, anche se non ha avuto grandissime occasioni. Barella, 5 e mezzo. Niente di che. Nervoso, in fase di non possesso. Impreciso e inconcludente in fase di possesso. Giorginio, 5 e mezzo. Buona intensità, in fase di non possesso, ma spento in quella di gestione. Pochi lanci, poco presente, non mi è piaciuto. Verratti, 5 e più. Semplicemente inesistente in campo. Chiesa, 6 e mezzo per l'impegno, per il gol, per la volontà di metterci tutto. Fatto giocare in un ruolo non suo, però è uno che, sempre l'ultimo ad arrendersi, sempre quello che ci crede, quello che ti dà la sensazione di poter fare qualcosa, di avergli strappi. Cioè, Chiesa nell'Italia è come Chiesa alla Juve. Cioè, è il fulcro, il riferimento attraverso il quale può passare un qualcosa di positivo. Bernardeschi ha una grossa attenuante che è stato fatto giocare falso. Cioè, sto cazzo di Bernardeschi, poveretto. Gli avete fatto fare tutti i ruoli tra Juve e Italia, tranne il suo. Che è quello di seconda punta, ok? Non l'ha mai capito un cazzo di nessuno. Questo lo vedi fare il difensore, lo vedi fare il centrocampista, l'esterno, addirittura la punta. Gli do 5... dal 5 al 6 gli do, perché comunque neanche lui ci ha messo granché, ma gioca perennemente fuori ruolo. Insigne ci ha battato un gol veramente che era da cambiare solo per quello, però anche lui ha una piccola giustificazione per il ruolo. 5 e mezzo. Chiellini, ecco, un altro che salvo. Comunque è entrato bene con Grinta, mi è piaciuto, anche se un po' troppo lamentoso pure lui. Però 6 più. Calabria, 6 meno, perché quella punizione l'ha tirata male. Locatelli, Locatelli un pochettino impreciso, però meglio degli altri, sono buono, gli do 6. Pellegrini, 6 più. Kean dal 5 al 6. Voto a Mancini, ma per le scelte di convocazione, scelte in campo, via dicendo, era anche una gara, secondo me, alla portata. Onore alla Spagna che è forte, però 5 e mezzo. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.